Moto in moto vince la crisi e rilancia la tua passione! Sì, perché con i nuovi arrivi autunno-inverno scoprirai le novità dei capi tecnici da utilizzare in pista e nel tempo libero. Un esempio? Tutta professionale Spike a partire da 389 euro, oppure giacca in pelle Spike Blaster a 199 euro. Ma ci sono anche tante altre novità, come il ritorno di Arlen Ness e le nuove collezioni di Speedy, Alpine Stars e altri marchi. Moto in moto, via Ripuaria 225 a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo.